Domani andremo ad Erba ad una gara di cucina dove la gara si svolgerà tra le varie scuole della regione e prepareremo un menù completo formato da un altipasto, un primo piatto, un secondo di carne, un secondo di pesce e un dessert. Sarà più che altro una gara di presentazione dove bisognerà tenere conto dei fattori di colori, abbinamenti dei gusti, gli alimenti devono essere tutti gelatilati. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Ciao, sono Manuel, frequento l'Alternativo, sono qua all'Expo di Erba per partecipare al concorso di arte culinaria, il freggio, ho portato qua i miei piatti, sono cinque, un piatto unico, un antipasto, un primo piatto, un secondo e un dessert. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Buongiorno a tutti, sono Marco Ercugliani dell'Istituto Ezio Vanoni di Porlezza. Il mio compito è stato preparare un cocktail di fantasia, gli ingredienti che ho scelto per preparare questo cocktail sono ananas, vodka al limone e sciroppo di fragola. Il cocktail ho deciso di chiamarlo Pineapple Passion.